Polizia locale, interventi a 360 gradi al servizio della cittadinanza. Prosegue senza sosta, anche durante l'estate, l'attività della Municipale di Sommalombardo. E prima di affrontare il mese più caldo dell'anno, il comandante Umberto Cantù fa il punto sulle attività delle ultime settimane trascorse. Si segnalano interventi di natura amministrativa nei confronti del titolare di un parcheggio in zona malpensa, che invece di collocare le auto in luoghi appositamente adibiti, le parcheggiava sulla pubblica strada. Oltre che una costante attività di controllo e prevenzione, svolta congiuntamente con i volontari del Parco del Ticino, le GEV e i Carabinieri, per preservare le spiagge, tutelando la sicurezza degli avventori. Non sono mancate inoltre le denunce per reati in violazione del codice penale, un cittadino aggredito fisicamente con minacce e un ausiliario del traffico in servizio, due estracomunitari sono stati denunciati per l'invasione di un edificio, una donna è stata denunciata per violazione dei doveri di custodia, un motociclista si è visto sospendere la patente di guida, poiché a seguito di sinistro stradale è stato sottoposto agli accertamenti di rito ed è stato trovato con tasso alcolemico superiore rispetto a quanto consentito. Infine, è stata segnalata all'autorità competente anche la conducente di un'auto, che ha procurato lesioni colpose ai danni di un pedone con proniosi superiore a 40 giorni.